Rieccomi qui carissimi telespettatori di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo per questo lunedì di Pasquetta. Il maltempo che ha coinvolto il nord negli ultimi due giorni pian piano transiterà anche sulle regioni centrali. Di conseguenza mi aspetto il transito di un fronte freddo, colmo di pioggia, acquazzoni anche temporali in grado di attraversare tutto il centro Italia nel corso di questo lunedì. Dopo una mattinata complessivamente serena o velata, ancora con un po' di vento e di scirocco, avremo un peggioramento proprio tra pomeriggio e sera. Anche l'Abruzzo rischia di fare i conti con questa instabilità pomeridiana e serale. Transiterà questo fronte ricco di acquazzoni e temporali che potrebbe quindi compromettere le nostre giornate all'aperto. Ecco, la possibilità di fenomeni più intensi la troviamo nelle aree interne, sull'Apennino, sull'Aquilano, settentrionale in particolare, ma entrosera queste precipitazioni potrebbero attraversare gran parte della regione, risultando comunque un po' più forti, un po' più persistenti nelle aree interne. Temperature inizialmente ancora abbastanza miti, fino a 23-25 gradi in tarda mattina, poi dal pomeriggio calo termico evidente ovunque. Con questo concluso ci rivediamo nel prossimo aggiornamento, sempre qui su TV6.